E cari amici, cari amiche, eccoci qui. Ci troviamo presso il centro di formazione professionale Kennedy che ormai è presente nel mercato da oltre 30 anni con un solo obiettivo, garantirti il giusto inserimento nel mondo del lavoro. Infatti noi entriamo subito all'interno, o meglio entriamo nel mondo del lavoro perché è questo che ha consentito a tanti ragazzi di avviare la propria attività perché ricordiamo qui presso il centro, tra l'altro attrezzato con i suoi 600 metri quadri di tutto quello che ti occorre, aula, laboratorio e tutti i comfort necessari ha dato l'opportunità non semplicemente di ricevere un attestato da abbellire nel tuo studio ma una qualifica riconosciuta a livello europeo che ha dato l'opportunità già a oltre 40 centri estetici di avviare la propria attività grazie alle competenze e gli studi proseguiti qui presso il centro non sono diversi, hanno anche potuto manifestare questa professione anche all'estero c'è chi già sta insegnando anche a Londra grazie proprio al percorso e alla qualifica ottenuta presso il centro noi continuiamo questa breve panoramica perché ricordiamo oltre a quello che riguarda il mondo dell'estetica non solo, parliamo anche di corsi per trattatore, parliamo di OS o corso per operatore socio-sanitario tutto ciò che è possibile ottenere sempre qui presso il centro non solo, ricordiamo che il centro Kennedy è convenzionato anche con la regione Calabria perché ha il piacere di rimanere sempre aggiornato e di garantirti in tempo reale tutte quelle che sono le nuove opportunità che il mercato del lavoro è in grado di offrirti per cui se vuoi rimanere formato, se vuoi essere aggiornato, se vuoi ottenere le qualifiche le giuste certificazioni per garantirti il tuo mondo lavorativo non puoi che venire sempre qui presso il centro di formazione professionale Kennedy ti aspettiamo grazie